Una cooperativa sociale è un'associazione nate dai genitori per aiutare i figli, i propri bambini, con problemi di autismo e di comportamento con delle tecniche innovative e con un metodo di avanguardia. Sì, noi ci siamo conosciuti nel corso di questi anni, nelle varie esperienze a favore dei ragazzi, dei nostri figli eccetera e in questo periodo abbiamo pensato di dare vita a un'iniziativa, a una cooperativa sociale affiancata a un'associazione con cui abbiamo sviluppato queste attività. Abbiamo coinvolto nel nostro progetto dei professionisti, la dottoressa Mauceri, la Roberta Cuoghi, un'educatore, un'educatrice che da anni svolge queste attività e le quali si sono aggregate ben volentieri fiduciosi nell'iniziativa e abbiamo strutturato qua a Fiorano una nostra sede, sono 250 metri quadri attrezzati con delle aule specifiche per le varie attività e noi lavoriamo in autonomia e cerchiamo di avere collaborazione con le varie istituzioni del territorio, dalle amministrazioni pubbliche all'USL, la scuola eccetera e abbiamo un'interazione con tutti questi elementi per cercare di creare un progetto che sia univoco e che porti tutti nella stessa direzione, questo per favorire i ragazzi nel loro processo di crescita e soprattutto vedere un attimino nel proseguio se c'è la possibilità di strutturare un percorso di vita, un progetto un attimino più intenso, soprattutto nel dopo scuola. Quindi quando arriveremo al termine della scuola qua nascono dei problemi un attimino più intensi perché oggi finché viviamo nel contenitore scolastico abbiamo un buon appoggio per i ragazzi eccetera. Dopo le problematiche sono un attimino più serie e quindi vanno affrontate e noi quello che ci siamo proposti è cercare di affrontarle per tempo in modo tale di non avere le famiglie e i ragazzi che si trovano ad arrivare ai 19-20 anni in cui non riescono a intravedere una direzione e non hanno delle soluzioni o delle possibilità per il loro futuro. Aiutare i bambini autistici, aiutarli con il lavoro all'interno delle scuole, con l'integrazione nel mondo della scuola. È il nostro obiettivo prioritario quello di riuscire a lavorare in rete, il poter collaborare con tutti quelli che ruotano attorno al bambino, quindi scuola, famiglia, altre persone che possono lavorare col bambino permette al bambino veramente di generalizzare ciò che impara, impara nel centro, che impara nella stanza di trattamento. Questo poter generalizzare permette al bambino di potersi integrare, di poter esprimere quello che impara e riuscire a entrare in relazione, in contatto con gli altri bambini. La scienza pedagogistica ha fatto sicuramente tanti passi avanti sulla materia del trattamento di questi bambini autistici, di contraltare però c'è sempre il problema dei costi di trattamento che nelle scuole pubbliche soprattutto diventano un problema. I costi sono veramente un problema, perché non tutte le famiglie possono affrontare il costo, il poter entrare in un centro privato per poter fare un trattamento a livello privato. Sarebbe importante riuscire a entrare in convenzione con gli enti o con chi potrebbe permettere a tutti e veramente a tutti di poter usufruire dei trattamenti, anche se a livello privato.